Buona giornata a tutti, come ogni giovedì la nostra trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Gamma, con me c'è anche Francesco Salve a tutti Ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do l'indirizzo via delle Vignole 4 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo e oggi tratteremo del Paganesimo dei Finnici e qualche immagine della Deuotio riprendiamo le nostre immagini della Deuotio che abbiamo lasciato all'inizio dell'estate quando avevamo quasi finito il crogiolo e abbiamo cominciato l'operazione di Stragoneria che andava dall'Ottocento al 1789 e il Paganesimo che trattiamo oggi, un Paganesimo abbastanza piccolo e i cui ricordi sono rimasti è il Paganesimo dei Finnici vi ricordo l'altra volta, l'altra volta ancora, non l'ultima trasmissione abbiamo trattato del Paganesimo degli Urriti legato al Paganesimo Fenicio e come le tensioni pagani degli Urriti e delle varie popolazioni dei Babilonesi agli Assiri si sono trasferite nella Siria e sono trasferite nei Fenici fino ad arrivare a scontrarsi con l'arrivo del Dio Cristiano fino all'arrivo del Cristianesimo oggi abbiamo trattato i principi tipo la ciclicità universale del Paganesimo abbiamo visto come il sentire divino di un popolo si riversa in un altro popolo solo nella misura in cui quel popolo ritiene che quel divino gli sia utile ritiene di trasformare quel divino per se stesso e oggi invece partiamo dai Paganesimi Nordici con il Paganesimo finnico lasciamo il Mediterraneo per osservare le religioni del nord Europa i Paganesimi Nordici questi Paganesimi sono stati sconfitti dal Cristianesimo in epoca molto tarda ed hanno posto grandi resistenze giugendo a costruire dei Pantheon e a significare delle divinità da opporre all'arrivo del Dio Cristiano in pratica gran parte dei Paganesimi Nordici venivano stravolti proprio per dare un Pantheon per dare una visione umana delle divinità proprio da opporre al Dio Cristiano la sconfitta di questi Paganesimi fu essenzialmente una sconfitta militare ad opera delle orde criminali dei crociati questi Paganesimi sono caratterizzati da una relazione fortissima fra la popolazione e lo specifico ambiente circostante dove l'essere natura attraverso le sue coscienze di sé assorbe quasi la totalità delle relazioni la formazione della struttura di pensiero filosofica è riassunta quasi esclusivamente dalle relazioni con la natura nella quale gli esseri umani sono immersi per la quasi totalità dell'anno nelle regioni mediterranee è più facile la percezione della coscienza di sé dell'essere sole e dei grandi spazi l'essere umano ha maggiori riferimenti per espandere il proprio respiro fuori dall'essere natura infatti ricordiamo che nel Mediterraneo c'è la navigazione, c'è il mare è molto più periodo di caldo che nei paesi nordici nei paesi nordici la natura avvolge l'essere umano lo protegge dal gelo e nel contempo assorbe quasi l'intera percezione dell'essere natura e l'essere divino per eccellenza vegetazione sia come boschi che cereali l'atmosfera e l'atmosfera rappresentano il maggior referente divino della percezione dell'essere umano finico la tempesta è il divino costruttore è l'antenato di ogni coscienza che si esprime nell'essere natura la tempesta è la contraddizione lo sconquassamento della natura la tempesta è il momento in cui esseri di energia vitale nascono e iniziano il loro percorso di costruzione la tempesta è atto divino dell'essere natura dell'essere atmosfera la contraddizione genera la vita la contraddizione è il divino per eccellenza e con questo divino i finici si relazionavano di questo divino afferrano la propositività e la distruttività Ucco è la tempesta Ucco è la forza che agita le acque e sconvolge il mondo costruendo le condizioni nelle quali la vita si esprime si sviluppa percorre il proprio sentiero nell'essere natura così Ucconen è l'antichissima tempesta l'antichissima contraddizione dalla quale traggono origine le coscienze di sé Ucco soccorre gli esseri umani li soccorre attraverso le tempeste e le calme delle tempeste gli esseri umani vivono le tempeste dell'esistenza superando le contraddizioni dell'esistenza gli esseri umani fondono il loro divenire nell'eternità Ucco veniva onorato con bevande inebrianti è importante in quanto le bevande inebrianti indicano la pausa il rilassamento dopo la scarica attraverso la quale si è superata la contraddizione ricordiamo che in tutti i paganesimi abbiamo delle divinità che si celebrano con bevande inebrianti si offriva anche carne che per una notte veniva lasciata sui monti di Ucco in modo che anche Ucco fosse inebriato gli esseri umani si facevano Ucco ogni qualvolta dovevano affrontare le contraddizioni dell'esistenza le tempeste della vita a Ducco viene associata a Rauni il sorbo selvatico i frutti che l'essere natura produce e dei quali l'essere umano trae sostentamento non so quanti siano gli alberi da frutta nei paesi finici ma il sorbo rappresenta uno di questi e i suoi frutti tenuti qualche tempo nella paglia sono preziosi per gli esseri umani che si cibano quasi solamente di carne e cereali Rauni è la terra come madre dell'essere natura nel paganesimo finnico c'è la percezione del mutamento come in ogni paganesimo il tempo come misura del mutamento garanzia del divenire garanzia della crescita il Marian è questo divino l'essere umano che muta di luogo viaggia il cielo che sposta se stesso il vento la crescita degli esseri il mutamento il tempo tutto questo è oggettività del divino è divino in se stesso è fondazione di ogni divino e di ogni mutamento ricordare il Marian per i finici significa ricordare le trasformazioni cui sono chiamati nel corso della propria esistenza giumala è la coscienza di sé del cielo il giove dei romani il divino più antico dell'essere natura e che l'essere natura aveva arricchito attraverso le sue trasformazioni giumala è padre figlio di ogni essere come giove i cristiani usarono questo nome e questo referente per chiamare il loro dio infinico il dio dei cristiani infinico si chiama giumala per il peggior sfregio all'essere atmosfera al divino che assieme all'essere terra partorì protesse e alimentò l'essere natura non si poteva fare ma i cristiani non hanno rispetto per nessun divino devono storpiare ogni divino per distruggerlo solo questo consente ai cristiani di mettere in ginocchio gli esseri umani impedendo loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso già l'altra volta se ricordate quando abbiamo parlato degli urriti e dei finici abbiamo parlato del disprezzo che i cristiani e gli ebrei in generale avevano per Baal Baal che è l'energia vitale il principio maschile della vita infine i finici riconoscevano il divino che li circondava il bosco tappio era ciò che per i romani era silvano e fauno per il loro circostante i finici indicavano il potere del bosco nella forza dell'essere orso che veniva indicato come lo spirito animale del bosco i finici avevano un rito per diventare essi stessi tappio ed era il matrimonio dell'orso col quale si legavano al bosco diventando essi stessi bosco ricordiamo sempre questo principio diventare noi stessi ciò che con noi si vuole relazionare cioè noi ci relazioniamo col divino nella misura in cui sviluppiamo il divino che abbiamo dentro la percezione dei finici li aveva portati ad identificare la trasformazione della morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso che diventa tutt'uno con l'essere terra i cimiteri erano considerati luoghi sacri in quanto dimore degli esseri umani ma i finici sapevano che dove era andato il corpo luminoso una volta nato dalla morte del corpo fisico avrebbe continuato a trasformarsi per svilupparsi e attraversare nuove trasformazioni simbolico era il viaggio verso nord ovest verso le nuove regioni che solo il corpo di sogno poteva raggiungere questa è la religione finica il loro sentire per quanto ci è giunto dalla distruzione operata del cristianesimo siamo sicuri che molti altri aspetti del divino appartenevano alla percezione di questi esseri umani siamo convinti che molti altri aspetti delle stelle del bosco appartenevano al loro fare di questi aspetti se ne è spenta la memoria ma la percezione umana li può individuare e ricostruire una volta che si è distrutto il male che mette in ginocchio gli esseri umani privandoli della capacità di comprendere i bisogni e le necessità del divino che li circonda di cui essi sono parte bene questo è il paganesimo finico non ci sono moltissime cose da dire vedremo che in tutti i paganesimi nordici piccoli che analizziamo non ci sono tantissime cose però c'è sempre questa relazione col mondo che ci circonda le necessità dell'individuo per relazionarsi col mondo vuoi qualcosa da fare? no no posso seguire casomai alla fine potrò sempre aggiungere qualcosa insomma è più che sufficiente anche appunto purtroppo il paganesimo nordico è sempre stato un po' tralasciato è stato sempre visto anche in maniera poi diciamo ristretta soprattutto quello che ci è giunto ci è giunto tramite i missionari perché proprio come tutti i pagani abbiamo delle canzoni popolari che sono rimaste sono rimaste nei canti poca roba comunque c'è sempre rispetto alla documentazione cioè la documentazione di pagani è sempre una documentazione di vita di stile di vita esistenziale non è mai una documentazione di tipo scritto che può essere insignificante cioè proprio il paganesimo veniva manifestato realizzato tramite la vita delle persone noi non diamo molta importanza ai nomi ma a ciò che rappresentano all'essenza anche alle immagini cioè quello che ci viene rappresentato dall'uso del nome il nome lo usiamo per parlare ma possiamo cambiare tutti i nomi delle cose la cosa non cambia è sempre quella basta fare sempre un affronto con il monoteismo il monoteismo fa delle discussioni tremende sull'unico Dio invece nei paganesmi questo non avviene mai noi abbiamo le più grandi mitologie che sono la mitologia appunto greca e romana in cui le divinità sono intercambiabili in cui noi possiamo chiamare con il nome greco la divinità romana e viceversa e questo non crea problemi di nessun tipo e nessuno si scandalizza se uno fa questa confusione nel monoteismo basta scambiare anche una lettera ci sono delle guerre di religione per una sola lettera sì 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 bene passando ora al sentiero d'oro voglio ricordare sempre il prologo del sentiero d'oro ricordate che il sentiero d'oro è una devotio prende lo spunto da un'antica devotio pagana romana che apparteneva alla famiglia dei Deci la famiglia dei Deci e questo Decio in particolare era un comandante dell'ala sinistra credo della cavalleria romana durante lo scontro con i Sanniti la sua ala di cavalleria stava per essere travolta dai Sanniti e lui decise di giocarsela tutto per tutto allora il pontefice il pontefice visto questo lo fece vestire di bianco gli fece mettere il piede su una lancia e gli fece recitare tutte le divinità della religione romana in pratica gli fece chiamare tutto il divino che lo circondava e imponeva questo divino di seguirlo nella battaglia naturalmente è riuscito nell'intento è riuscito a capovolgere sorti della guerra e questa devotio apparteneva alla famiglia dei Deci naturalmente è stata modificata dalla situazione attuale cioè è stata modificata da me perché la percezione del divino è cambiato però può servire per costruire tante devotio quanti sono gli individui ogni individuo può costruire la propria devotio sulla sua persona sul suo piacere sul suo sentire il mondo questo devotio è la devotio del sentiero d'oro il sentiero si può scomporre in molti aspetti ma è unico il sentiero è una coscienza di sé ogni parte del sentiero è coscienza di sé l'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrono egli provvede a cercarli egli non impone il modo con cui essere percorso egli non detta le priorità egli non detta le specificità egli non detta gli obblighi egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé d'altro canto io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero ma solo quella parte che coincide col mio essere col mio fare con le mie scelte il sentiero è libertà sempre in ogni aspetto dell'esistenza il sentiero nel suo insieme è l'anticristo riprendiamo la Deuotio dall'ultimo aspetto che abbiamo trattato l'altra volta e lo ritratto in maniera uguale ma diversa fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Quirino l'essere impone la sua volontà a Quirino Quirino insegna l'essere come il costruire città sia per la sua grandezza anche se questo limita Fauno e Silvano fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Nettuno l'essere impone la sua volontà a Nettuno Nettuno del mare siano diversi ma non nella misura in cui l'essere soccorrendo il mare decide di esercitare la propria volontà fondendola con quella del mare fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Camene l'essere impone la sua volontà a Camene Camene insegna all'essere che la fonte è coscienza volta al divenire eterno di cui l'essere può essere parte non solo un allegro zampillare d'acqua fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di febbre l'essere impone e la sua volontà febbre febbre insegna l'essere come la sua fonte di coscienza trasformazione fine per l'essere che non esarciti la propria volontà lei costruisce la coscienza là dove l'essere abbandona la via il proprio divenire il quadro 48 evocare Quirino significa concentrare la propria attenzione per costruire migliori condizioni di vita per l'intera specie Quirino è la coscienza di tutta la città quella città come ogni città tende ad espandersi così la coscienza di sé Quirino tende ad espandersi sollecitando ogni essere umano ad espandere il proprio divenire all'interno di quella città Quirino affascina gli esseri umani attraverso la costruzione della città li affascina rendendo la città sicura e incitando gli esseri umani ad agire affinché la città diventi sempre più sicura Quirino sviluppa il proprio potere di essere attraverso lo sviluppo del potere di essere di ogni essere umano della città più quella città è ricca più è alto il tasso di benessere degli esseri umani delle fasce sociali più deboli e maggiore il potere del Quirino di quella città detto alla cristiana detto alla cristiana perché noi pagani adoriamo Quirino per alimentare la tensione attraverso la quale rinnovarci per continuare a crescere assieme alla città nella quale abitiamo o dalla quale siamo affascinati o a tratti Quirino è il divino di ogni città con il quale gli esseri umani si possono legare riconoscendosi e legandosi al divenire di quella città ricordiamo che nella religione c'è sempre la coscienza del luogo lo spirito del luogo ogni luogo il bosco la fonte sono sempre degli esseri in sé delle coscienze quadro 49 evocare Nettuno significa evocare la coscienza di sé di tutte le acque del pianeta delle quali diventiamo parte ogni volta che usando la nostra attenzione ci immergiamo o le solchiamo evocare Nettuno significa attivare il divino che abbiamo dentro di noi per armonizzarlo con tutte le acque del pianeta la coscienza di sé Nettuno è ogni acqua ma diventa poderosa quando si è davanti al mare il mare e l'oceano esprimono l'intera possenza di Nettuno di cui siamo parte nel momento stesso in cui ci facciamo Nettuno Nettuno chiama gli esseri umani affinché nell'affrontarlo esercitino la loro attenzione così Nettuno liscia le linee di tensione dell'essere umano estendendo il suo potere di essere questo fare alimenta la coscienza di Nettuno mentre Nettuno alimenta il potere di essere di ogni essere umano detto alla cristiana perché noi pagani adoriamo Nettuno per ricordarci come le acque siano un divino da trattare con rispetto per fondare la nostra attenzione con quella delle acque e alimentare il nostro potere di essere quadro 50 evocare camene significa scambiare energia vitale con le fonti significa ricordare come le fonti siano coscienze di sé che trasmettono il loro essere e la loro consapevolezza ad ogni essere che si avvicina alla fonte concentrando la propria attenzione e all'essere umano al quale la fonte chiede di diventare parte costruendo anche attraverso essa il proprio divenire ricordo che le fonti furono fra le ultime divinità a morire ancora il vescovo di Milano Ambrogio lui condannava quando i contadini portavano degli omaggi alle fonti e basta pensare che ad esempio io ho letto gli impugliati del processo Giovanna d'Arco di conseguenza necola bentarda la stessa Giovanna d'Arco dice c'era ancora chi nel mio villaggio andava negli albi andava nelle fonti poi andava a portare i doni il potere della fonte è enorme è grandissimo detto alla cristiana perché noi pagani adoriamo camene per ricordare i canti del mondo che ci circondano per ricordarci che il mondo che ci circonda usa la propria volontà e la propria determinazione per ricordarci che questa volontà e questa determinazione si può fondere con la nostra e percorrere dei tratti comuni verso l'eternità delle coscienze quadro 51 evocare febbre significa riconoscere un fare divino dell'essere della natura col quale noi entriamo in relazione evocare febbre significa ricordare che se non rinunciamo che se noi rinunciamo all'esercizio della nostra volontà e della nostra determinazione altri esseri sono pronti ad esercitarla nei nostri confronti evocare febbre significa ricordare che abbandonare il sentiero per lo sviluppo della coscienza di sé lungo il sé porta alla distruzione dell'essere e altri esseri vali per i batteri vali per i virus vali per i microbi sono pronti ad approfittare dell'occasione per sviluppare il loro divenire abbandonare il sentiero per lo sviluppo di se stessi significa imboccare un sentiero che porta alla propria distruzione detto alla cristiana perché noi pagani adoriamo febbre per ricordarci che non c'è divenire né futuro abbandonando la via per lo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé non c'è futuro né sviluppo mettendoci in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e con questo ho finito anche le immagini per oggi della Duotio Francesco lascia a te se vuoi ecco ricordo che chi vorrà intervenire può telefonare allo 049 700 700 e daremo le telefonate in diretta e se ci sono delle domande da fare o argomenti da approfondire noi siamo qui a disposizione ecco io volevo ricordare alcune cose tra l'altro appunto sempre sul discorso del monotismo e del paganesimo e dello scontro appunto tra monotismo e paganesimo il monotismo pone sempre la necessità di avere una manifestazione esterna cioè nel senso che non reputa mai il mondo sufficiente a se stesso e che sia completo c'è sempre il bisogno che arrivi un profeta che arrivi un dio che arrivi qualche incarnazione che c'è una manifestazione del mondo esterno che ci sia una profezia ma è sempre qualcosa di esterno che viene in questo mondo proprio per dire questo mondo è insignificante è inutile non è sufficiente e c'è la necessità che qualcosa lo venga a correggere o qualcosa lo venga a integrare e che sia sempre sottomesso questa manifestazione esterna il fatto stesso di porre sempre questa necessità un legame esterno significa chiaramente di reputare che le persone che vivono solo su questa realtà hanno sempre bisogno di avere un qualcosa di esterno da cui poter dipendere è un'astuzia che permette di dire esiste una gerarchia e noi siamo sempre inferiori abbiamo bisogno di qualcosa che non possediamo che non è trovabile da tutti e che ci deve giungere dall'esterno di conseguenza noi dobbiamo sempre attendere un qualcosa che ci venga a integrare e questo è significativo perché permette la creazione di situazioni di tensione nelle persone perché le persone non trovano più soddisfacente il mondo che si risconda perché è insufficiente perché manca Dio Dio deve venire il fatto stesso è che ad esempio i pagani non abbiano l'inizio delle manifestazioni di Dio cioè i pagani dicono la divinità come c'è l'uomo su questa terra c'è le divinità ci sono il mondo divino di conseguenza il mondo è già completo le cose possono solo cambiare e modificarsi se ne possono aggiungere alcune alcune possono sparire ma tutte queste cose sono già presenti non ci sarà nulla di nuovo non ci sarà nulla di creato ma ci sarà qualcosa che noi non conosciamo qualche popolazione qualche divinità che verrà a manifestarsi e di conseguenza il pagano dice quello che io di cui ho bisogno lo posso trovare lo posso trovare con le mie forze cioè nel senso che non ho bisogno di attendere un qualcosa che io non so perché ad esempio il monoteismo dice chiaramente fino a un certo punto l'umanità era sfortunata poi a un certo punto una divinità esterna Dio dice ma poverazzi questi qua non hanno un riferimento li butta lì un testo sacro li butta a Dio dei profeti nel paganesimo questo non è concepibile nel paganesimo dice appunto il mondo è sufficiente il mondo basta a se stesso e il mondo è a disposizione di tutti cosa succede appunto con il monoteismo dicono chiaramente questa manifestazione di Dio voi non potete percepirla la possono percepire solo i profeti e di conseguenza voi dovete essere legati ai profeti cioè create sempre una dipendenza per i pagani dicono no tutti quanti possono disporre del mondo tutti possono vedere il mondo si può dire vabbè a me ad esempio la fonte non ha reputo sacra la vado a inquinare benissimo è una scelta che fai però anche tu hai la possibilità di entrare in contatto con questa fonte se il pagano dice per me gli alberi i boschi sono sacri io uso questa legna ad esempio per scaldarmi però so che ho ucciso una divinità ma ne ho una necessità per mantenere la mia vita è un discorso che io faccio però non farò nulla per privarmi del bosco toglierò qualcosa dal bosco che mi servirà però farò di tutto che si mantenga in maniera tale che posso dare qualcosa a me e posso dare qualcosa agli altri e il monoteista questo non è possibile dicono vabbè il bosco è per te sacro ma io lo distruggo il discorso della distruzione delle cose non è una cosa che avviene nel paganesimo ma avviene nel monoteismo prendiamo un esempio anche di attualità cosa fanno ad esempio in Algeria gli islamici vanno a sgrozzare a decapitare le persone ma perché le vanno a sgrozzare e perché non fanno altre cose perché loro dicono chiaramente sgrozzando o sgrozzando dividendo il tuo corpo non potrai ricongiungerti di conseguenza al giudizio universale tu non potrai essere presente e di conseguenza sarai fregato questo significa arrogarsi un diritto significa siccome c'è qualcuno che andrà a giudicare esternamente io ti rendo impossibile la tua materialità in maniera tale che tu non sia escluso nel paganesimo questo non è possibile perché non esiste il concetto di giudizio universale o di una divinità che possa giudicare le azioni delle persone perché ad esempio nei pagani nel paganesimo romano soprattutto quello greco c'erano delle manifestazioni divine che potrebbero essere disapprovate proprio perché dicevano chiaramente anche la divinità non è esclusa da commettere degli errori e delle violenze di conseguenza come la divinità non è perfetta l'uomo non può essere perfetto e di conseguenza si può realizzare la perfezione o può tentarla tutte le persone come devono tentare la divinità di conseguenza la divinità non diventa un modello fondamentale di conseguenza quando tu compi un'azione violenta la compi per la tua scelta nel essere responsabile il monoteista può sempre dire io questa azione violenta l'ho commessa perché Dio me l'ha suggerita l'ho fatta per la volontà di Dio di conseguenza va a dare la sua responsabilità degli altri e lui giustifica qualsiasi cosa e questo e questo è appunto sono le tendenze più classiche proprio nel monoteismo per questo il discorso pagano è un discorso fondamentale per rivoluzionare le cose perché non è uno strumento che viene dato o una cosa che viene imposta ma è una sensibilità che le persone devono realizzare per appropriarsi del mondo cioè noi non diciamo che c'è bisogno di un dogma o di professarsi pagani per risolvere le cose bisogna essere pagani con un certo stile di vita con un certo modo di fare la responsabilità delle tue azioni appartiene a te e non la divinità la divinità ti può essere a fianco ma la responsabilità fondamentale è sempre individuale per questo bisogna sempre lottare contro il monoteismo perché il monoteismo introduce noi non mai siamo abituati a vivere in un ambiente monoteista abbiamo due mila anni di dominazione introduce sempre delle cose negative cioè introduce sempre questo è il principio di delega e di poter attribuire qualsiasi cosa agli altri di conseguenza ci si può dopo scusare per le azioni che si compie per poter proseguire nella propria volontà di potere cioè si può adeguarsi alla situazione ambientale per sfruttare gli altri il pagano sarà sempre conscio che quello che compie è una propria responsabilità lo può compiere ad esempio per l'invasamento del Dio però questo invasamento del Dio appartiene a una forma della manifestazione del divino cioè il divino non è sostanzialmente negativo come noi siamo di più umori abbiamo più caratteristiche come ci sono diversità delle persone anche il divino ha delle forme diverse di manifestarsi perciò avere delle divinità che ad esempio combatteranno con te per vettare che ci sia la violenza che ci sia la soprafazione che si possa realizzare nella libertà e la felicità delle persone cioè per dare un'idea di cosa significa sempre monoteismo e politeismo ad esempio i talebani a Kabul cominciano a tagliare tutti quanti i ciuffi i capelli sulla fronte perché dicono questi qua i capelli sono di Satana perché impediscono all'uomo ad esempio di inchinarsi a terra per affrontare la divinità il fatto che l'uomo non batta la fronte per terra significa che fa un'offesa a Dio e di conseguenza loro con le fobie si stanno lì a tagliare i capelli per un pagano questo è assurdo perché non esiste modo di essere pagano in maniera così diciamo dogmatica si si in onda vai ecco volevo soltanto siccome in questo momento è di moda esprimere solidarietà che manifesta no? si io vorrei esprimere solidarietà a un politeista che è stato denunciato per aver fatto una scritta quando? il fatto è successo sabato notte beh perché ha scritto che il mondo cristiano è ateo sta morendo e ha detto addio su una scritta è stato denunciato al piede libero io volevo soltanto scrivere solidarietà anche da parte nostra va bene noi ci asfacciamo ciao ciao Luigi ciao ringraziamo appunto Luigi di questa segnalazione e questo ci dimostra che una semplice scritta e qui dice che come diceva l'ascoltatore il dio dei cristiani porta all'ateismo che poi era anche una delle affermazioni che facevano i romani quando i romani andavano computati dal punto di vista diciamo così dottrinario il cristianesimo diciamo chiaramente porta all'ateismo perché proprio pone tutto il riferimento all'inforo di questo mondo di conseguenza crea una situazione di pancazza di responsabilità e porta all'ateismo e questo era vero perciò gli dicevano appunto che questa simile affermazione avviene anche adesso cioè il fatto che noi abbiamo un punto di riferimento esterno al mondo ci impedisce di essere responsabili di quello che facciamo il fatto stesso che si arriva a questo punto che una persona viene denunciata perché scrive il dio dei cristiani è morto e porta all'ateismo io lo trovo assurdo insomma abbiamo tante più scritte più brutte in giro per questa dobbiamo vedere se la denuncia è legata al fatto di imbrattamento del muro allora è un discorso o se è legata al contenuto della frase se è più facile che sia stata la denuncia per l'imbrattamento del muro speriamo 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 perché non vorrei che fosse un po' eccessivo insomma ecco facciamo un po' di rassegna stampa io ho la vecchia però rassegna stampa e tu hai qualcosa di nuovo no beh io appunto io volevo appunto agganzarmi ad alcune cose beh ci sono rassegna stampa purtroppo le notizie più interessanti vengono sempre date poche tanto per dire una cosa noi parliamo spesso dell'affermazione che il monoteismo nella versione di chiesa cattolica in occidente tende a falsificare la storia cioè nel senso un pagano non ha mai il bisogno di dire nel passato e falsificare il passato per giustificare il presente cioè dice la vita per me è un proseguirsi è un manifestarsi continuo di conseguenza il passato è quello che è stato e di conseguenza quello che io faccio non ho bisogno di crearmi un finto passato per giustificare il presente invece nel monoteismo questo avviene cioè parlavamo l'altra volta ad esempio del discorso che una delle nella Bibbia c'è esempio Re Davide che esempio Re Davide dal punto di vista storico non è documentato ultimamente ho letto sui giornali notizionali di poche righe che la famosa che era una delle altre donazioni quella di Matilda cioè della signora di Canossa della donazione al Papa dei suoi possedimenti fosse falsa di conseguenza si sollevava la perplessità che non ci fosse questa donazione che contribuiva con le altre donazioni a creare uno stato pontificio cioè il fatto stesso che poi sempre nel monoteismo ha già detto che sono falsi anche i lasciti di Costantino erano dei falsi cioè tutto questo è già accertato adesso a questo punto stanno venendo fuori anche altri lasciti proprio sono dei falsi proprio che servono scusate ma i preti assistivano i moribondi per cosa c'era una radioascoltatrice che una volta che ce l'ha spiegato bene il discorso va bene andiamo avanti con un po' di la signora stampa visto che i telefonati non arrivano ricordo che il numero di telefono è 049 700 io la vecchia la signora stampa che l'altra volta non ho fatto perché quella di questa settimana non è che ci sia riuscito il dilemma del saio tra stato e crimine c'è questo don frittita che non si sa bene cosa deve fare cioè in pratica loro si sentono i preti si sentono un po' i padroni del mondo i padroni degli esseri umani loro sono al di fuori dello stato al di sopra dello stato sono al di fuori delle leggi lo sono sempre state per cui se ne sbattono altamente e allora si chiedono ma cosa che male ho fatto io e la chiesa ma la chiesa non può abbandonare i peccatori dice si però li deve denunciare bisogna che si mettono in testa questi che sono cittadini non è che il discorso vale anche per il nostro amico politeista a me mi dispiace che l'abbiamo peccato mentre faccia le scritte però la legge dice che tu non devi fare le scritte ora se questi qua gli inputano il contenuto della scritta è ignominioso ma se gli inputano il fatto di aver fatto la scritta il danneggiamento so che c'è un articolo preciso su questo c'è una multa adesso non so quando che sia comunque è possibile sistemare la faccenda però la legge lo vieta inutile che andiamo dopo vediamo come la legge viene trattata Cristo e Buddha uguali per legge allora c'è una al sentenza della corte costituzionale che ha modificato un articolo del codice penale che faceva della regione cattolica alla regione di stato cioè a me e dare insultare il dio dei cattolici era più grave che non insultare il Buddha e c'era una una divergenza e adesso è stato tutto quanto omologato nel senso che qualsiasi divinità si insulti c'è la stessa condanna cioè si soggiace alla stessa identica pena per cui sia Dio Cristo il dio dei cristiani Dio poi e il dio dei cristiani Cristo Cristo poi Cristo non è un dio Cristo è un profeta infatti se non mi sbaglio c'è c'è stata un'altra sentenza della corte di Cassazione o della corte costituzionale che dice che si può bestemmiare solo Dio non si può bestemmiare la Madonna cioè tu non puoi insultare il dio dei cristiani ma se tu insulti la Madonna non è bestemmia per legge questo c'è stata una variazione di questo tipo infatti credo che a Verona un prete pazzo abbia fatto i manifesti contro lo Stato o fa bestemmiare la Madonna vabbè no ma basta pensare che ad esempio nell'ambito cattolico c'è la discussione che la Trinità non è più di tre ma deve diventare di quattro perché vogliono arruolare un'altra persona sì appunto è una cosa robriosa insomma cioè perché hai idea nel paganesimo questo si può fare questo è il punto nel paganesimo si può fare tutto quello che si vuole perché nulla è un documa di conseguenza tu puoi costruire sempre purché costruisca libertà purché sia una conquista umana una conquista della percezione sia una dilatazione delle persone che si può fare qualunque cosa mentre invece nel cristianesimo non si può fare perché il cristianesimo è parola assoluta del Dio assoluto che è il Dio creatore del mondo per cui modificare o solo interpretare la parola assoluta del Dio creatore del mondo è in sé un crimine dal punto di vista religioso cioè se io dico se Socrate ha fatto qualcosa di male se Socrate stuprava i bambini è Socrate che stuprava i bambini non ha mai detto agli altri voi dovete stuprare i bambini cioè è un uomo che ha fatto delle cose che non vanno bene ma se lo dice Dio se Dio dice fai quello che voglio io io ti ammazzo quella è la parola immutabile di Dio cioè è dogma religioso per cui chiunque si identifica con il Dio può fare quello che vuole l'Italia ci ripensa frottole sull'Algeria non erano stati servizi segreti ma sono stati di integralisti a sgozzare gli italiani io mi ricordo questo fatto che era all'interno di un progetto molto complessivo di sgozzamento dei lavoratori stranieri se non mi vado a male la mia memoria anche perché tra l'altro quella nave trasportava il semolino che il semolino è un degli elementi base dell'alimentazione algerino esatto perciò tolendo il semolino che era un soldato che veniva solo perché c'è sempre un problema più lungo da fare dal punto di vista economico le popolazioni arabe tutte quante dipendono non dalla produzione propria ma dalla produzione importata di conseguenza se io blocco le importazioni di un prodotto crea una situazione di necessità cioè crea la fame e di conseguenza crea delle tensioni e per questo allora si andava ad attaccare le navi o chi ad esempio trasportava i vivi proprio con questa finalità e poi si avrebbe fatto un discorso mondiale sul mercato di cereali che sarebbe un discorso economico molto lungo che casomai potremmo rinviare in altri tempi entriamo sull'imperialismo sui giochi economici sui giochi di potere entriamo su tante variabili il cardinale Giordano di Napoli la pedofilia la pedofilia è una peste peccato che sia frutto cattolico ricordiamo che la pederastia la pedofilia oggi come oggi nei paesi occidentali è frutto dei dogmi cristiani cioè è il prodotto del cristianesimo anche se in passato troviamo molta pedofilia specialmente in Grecia specialmente fra i romani lì andrebbe considerato a livello culturale in un altro contesto mentre la pedofilia attuale che è appropriazione dell'individuo ma nell'antica Grecia la pedofilia apparteneva anche alla fascia d'età cioè ad esempio è solo nel cristianesimo che si arriva con i bambini piccoli anche nell'antica Grecia esisteva un limite di età invalicabile di conseguenza non arriverebbe mai agli atroci schemi che ci arrivano in questi momenti comunque quella che c'è oggi come oggi deriva dal concetto che la persona è proprietà del Dio per cui la persona è proprietà della chiesa è proprietà del padre è proprietà di qualcuno cioè è la gerarchizzazione del sistema sociale avete presente voi quando Vuitila dice bisogna salvare la famiglia la famiglia la base sociale bene quello è incitamento alla pedofilia perché questo non che Vuitila dice fatti pedofili ma da all'interno della famiglia all'interno della struttura sociale una gerarchia di proprietà degli individui gli individui sono proprietà di qualcuno infatti quello che ha tentato la Costituzione della Repubblica è di mettere al suo centro non tanto la famiglia anche se è costretta a riconoscerla ma l'individuo e i diritti dell'individuo che è una rivoluzione rispetto al pensiero cristiano sì beh attaccando sul discorso appunto del potere io vorrei ricordare qualcuno ci ha criticato per la campagna sull'otto per mille ah sì sì però adesso logicamente se qualcuno lo sa questo 8 per mille verrà utilizzato per favorire i divorzi cioè nel senso che lo Stato del Vaticano si accollerà le spese per quelle persone che invece di ricorrere al Tribunale dello Stato invece di ricorrere allo Stato italiano a un Tribunale civile ricorrerà alla Sacra Rota chi farà il ricorso alla Sacra Rota pagherà solo una cifra molto molto misera e gli altri soldi li metterà il Vaticano dove li andrà a prendere questi soldi li andrà a prendere dall'otto per mille che vuol dire che proprio l'otto per mille a cosa serve poi il fatto stesso che la Chiesa Cattolica faccia questa pubblicità faccia questa scelta di utilizzare dei fondi dati dallo Stato per creare una struttura del genere è uno scopo diciamo soversivo cioè nel senso che tende a togliere il potere dello Stato cioè dire fa benissimo lo Stato ti riconosce un diritto se tu ti rivolgi allo Stato vuol dire che riconosci validità allo Stato benissimo visto che tu vuoi ricorre al divorzio io sono disposto a tutto pur che tu ti sottometti a me io ti pago non ti faccio spendere ti faccio spendere quanto allo Stato però tu devi sottostare la nostra volontà cioè già questo è un principio soversivo accettare l'autorità della Chiesa Cattolica cioè perciò loro tutta la campagna che hanno fatto contro i divorzi visto che i divorzi ci sono e sono delle manifestazioni che avvengono benissimo cerchiamo di riprendere queste cose e di riportarle sempre sotto il nostro dominio cioè qualsiasi cosa va bene pur che noi la controlliamo pur che noi la dominiamo la Turchia processa il partito islamico chiesto lo scioglimento del Refa viola la Costituzione solitamente vi cito anche è del gaggettino questo articolo del 12 novembre sapete benissimo che in Turchia c'è un grandissimo scontro fra integralisti che vorrebbero il potere fra gente che è un po' meno integralista fra kurdi che vengono massacrati fra necessità della Nato di controllare il paese e necessità premesso che i kurdi vengono massacrati anche con la solidarietà del governo italiano quel governo italiano quando vengono massacrati i turchi i kurdi non gli frega più di tanto non gli frega niente ma ogni volta che vengono massacrato chi è più debole socialmente non gli frega niente nessuno io mi ricordo una volta che ammazzarono Aldo Moro cioè il papa che del tuo si è messo in ginocchio ha detto non ammazzare io vi prego adesso sgozzano i bambini in Algeria come fossero bestiame nessuno però non gli frega assolutamente niente cioè in realtà solo fra potenti poi sarebbe anche una cosa da sottolineare perché i kurdi sono perseguitati perché i kurdi vengono perseguitati anche dal punto di vista religioso nel senso che è una delle comunità meno islamiche che ci possa esistere basta pensare che all'interno delle comunità kurde esiste un esempio un gruppo molto ristretto ci si parla di circa di 20-30 mila persone che si chiamano gli yazidi e sono chiamati in occidente in maniera imperfetta gli adoratori del diavolo e basta pensare che esistono addirittura altre minoranze proprio religiose all'interno dei kurdi e ricordiamo sempre che i kurdi esistono purtroppo hanno i problemi che sono frastagliati dal punto di vista politico però fino a pochi anni fa non esistevano esistevano sette movimenti di liberazione kurda nei vari paesi Iraq Turchia Iran e nessuno di questi movimenti di liberazione kurda si richiamava all'islam cioè tanto per dare un'indicazione di qual è questo tipo di popolo noi purtroppo facciamo l'errore di confondere i kurdi con i turchi però i kurdi sono un'antica popolazione insediata nell'antichità in una zona di confine e sono sempre stati una realtà a parte nel mondo islamico pur accettando certe forme islamiche per necessità perché è stato imposto perché basta pensare che ad esempio nei paesi arabi si dice che appunto il popolo kurdo è nato dall'icrocio tra sette versini e il diavolo cioè proprio già per loro questa origine è un marchio di infamia di conseguenza loro sono perseguitati cioè nessun governo islamico ha mai aiutato e mai favorito i kurdi proprio per questo loro richiamo a dire hanno avuto un'origine che non è accettabile e il fatto stesso è che poi nessuno faccia qualcosa significa chiaramente sottomettersi alla volontà di sterminio che possa esistere perché i kurdi vengono perseguitati non tanto perché sono sovversivi ma solo perché richiamo la necessità di essere liberi di essere indipendenti e di avere una propria identità questa identità non è ammessa in un mondo islamico in cui c'è un unico dio loro sono islamici adesso perché solo per necessità se venisse data la possibilità ambientale di crearsi un loro stato senza nessun problema di guerra e sante loro prenderebbero la loro religione naturale e questo è gravissimo che noi che viviamo in occidente possiamo tollerare che soprattutto il governo turco compie questi stermini e quanta gente compie stermini e noi li tolleriamo vabbè super miliardaria in convento il gazzettino del 13 novembre 1997 e questa ce l'ha raccontata una radioascoltatrice allora Alicia Koplovitz 47enne regina delle costruzioni con tre figli di cui uno è dicappato sembra si fa monaco dopo aver ceduto beni e titoli per attenzione alla cifra 1200 miliardi allora questa ha ceduto beni e titoli per 1200 miliardi si è fatta a monaca crisi mistica dopo il tradimento del marito da qualche tempo frequentava il gruppo ultraconservatore legionari di Cristo vi dice niente questo? pensate un attimo a quei raduni in America che sono avvenuti pensateci un attimino noi si basta in Italia l'opus Dei che insomma come potere non è male insomma si come potere non è male ma in Italia c'è sempre la possibilità di tagliarli ancora tenerli un attimo isolati questo è si c'è sempre la possibilità però basta pensare che il fenomeno 7 è soprattutto un problema all'interno della chiesa cattolica cioè nel senso che la chiesa cattolica si trova ciao ciao sono Irma Irma andrò un attimo per dire che è molto più facile fare la suora che non prenderti cura di un tuo figlio indicapato nonostante i miliardi perché se tu hai un figlio indicapato e sei anche piena di miliardi è molto più leggera la faccenda ma la chiesa è riuscita a convincere in un certo senso la religione non dico neanche la chiesa la religione di abbandonare un figlio per andare a fare la sua ora dunque guarda la cattiveria umana dove arriva vi saluto vi saluto a te ciao si beh questo è chiarissimo che ci sia questa volontà di fare e soprattutto è tipico cioè nel senso di dire visto che il Dio è fuori di questo mondo tu te ne puoi infischiare lo puoi abbandonare se poi va peggio non importa tanto se è un Dio che è fuori da questo mondo di questo Dio questo mondo lo può anche distruggere buongiorno ciao Anna dunque parlo con Claudio si e io ascolto diverso tempo che ascolto vorrei capire qualcosa se mi rispondi io chiudo la radio mi parli per telefono perché non sento niente va bene d'accordo allora io siccome che a me piace capire le cose e ascoltare sia a destra che a sinistra dopo ragiono con la mia testa vorrei sapere come mai che malgrado tutto quello che si dice a chiesa e come mai che va sempre avanti cioè che tutti corre che tutti implora e quando chi ha necessità si rivolge al supremo allora se realmente non si crede nessuno dovrebbe frequentare le chiese beh quelli che non credono almeno pronto sento niente si quelli che non credono almeno si almeno perché mi ripeto mi piace vedere quello ma non per giudicare perché mi piace capire e vedo che malgrado uno che dice tanto su è chiesa naturalmente è chiesa dei preti e io ne vedo perché anche sulla mia pelle mi gode dei strassi però malgrado tutto quando si trova in necessità in disperazione pronti si alza io oggi allora è la sconfitta che si è subita fin da bambini il gioco non è tanto la razionalità della persona cioè tu razionalmente sai che la chiesa mente cioè razionalmente lo sai però tu le formule non le hai recitate adesso te le hanno fatte recitare a due anni a un anno ti hanno fatte recitare a tre anni ti hanno messo in ginocchio ti hanno portato in chiesa cioè hanno cominciato fin da allora a distruggere quello che hai dentro posso interromperti? allora qua capisco però parlo anche di persone che la chiesa mia frequentava si e io ho sempre quella frase di dire io non parlo sul personale adesso voglio sul generico e dicono io non ci credo però ai preti però 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 cosa è il momento però che dice su di tutto naturalmente adesso i preti cosa seguono quello che ha detto il Vangelo non si parola di chi? io tu che vuoi l'ori tu che vuoi l'ori si è rinagare il bambino fin adesso si allora un'altra cosa allora se è rinagare il bambino fin adesso come mai i denti insomma prima o dopo si svegliano no e cade sempre perché perché ha avuto da bambini no perché costruiscono i loro figli a fare le stesse cose per abitudine no 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 si anche per ignoranza perché se sei da bambini ti do ragione ma quando che si diventa adulti si ragiona si guarda non serve a niente non serve a niente cioè il ragionamento il guardare il pensare non serve a niente rispetto a quello che si è interiorizzato da bambino non so se riesci a capire perché la chiesa cattolica ha chiesto un insegnamento della religione ma per cambiare questo sistema secondo il tuo ragionamento dimetti bisogna i nuovi elevi e i nuovi arrivi bisogna che noi liberiamo i bambini non li mettiamo in ginocchio a nostra volta basta pensare che prima di questo concordato non c'era l'insegnamento nella scuola nella scuola materna nella religione dunque un genitore non puoi dire bambino mio quando sarai grande deciderai tu no gran parte dovrebbe però gran parte non fa così no se tu hai seguito le nostre trasmissioni noi abbiamo detto quando abbiamo parlato dell'educazione che nel paganesimo bisogna che si educa l'adulto cioè da educare è solo l'adulto non il bambino il bambino cresce sempre imitando l'adulto cioè se un bambino cresce in una famiglia che ha sempre un libro in mano impara a leggere molto presto e ad amare la lettura perché i genitori ne parlano entusiasti se un bambino cresce in una famiglia dove nessuno legge lui non leggerà e farà una fatica enorme per leggere ma così per tutte le cose allora da educare sono gli adulti non i bambini allora come fa un adulto avendo una una educazione da bambino che non può cambiare perché ripeto il discorso di prima quando capita la necessità si rivolge al cielo come fa a insegnare al figlio molto bene lui stesso non è capace allora l'adulto è da mettersi in testa questo per insegnargli la religione cattolica per metterlo in ginocchio da bambino gli hanno fatto una violenza eccezionale lui deve riuscire a liberarsi attraverso una violenza che sempre lui subisce no altrettanto forte solo che quando era bambino si è dimenticato il dolore subito mentre da adulto lo dovrà subire tutto quanto insieme per cui ha paura ad affrontare questo dolore teoricamente sembra facile però no no è difficilissimo è difficilissimo e dopo un'altra cosa non si riuscirà sai perché secondo me sì perché l'insegnamento che si è avuto si sa il risultato esatto quello che se vuoi fare insegnare ai nuovi figli ai figli sì non si sa come chi va a finire e a me come mia figlia credo che mi sia andato abbastanza bene poi non so però gli ho insegnato a guardare se stessa se non altro quant'è mia? 16 anni ah beh beh ma ho cominciato quando non aveva uno però sai non ho mica portato in chiesa non mi ha messo in senoccio non mi ha fatto a battesare non mi ha costretto ad andare a catechismo dopo un'altra cosa dimmi dunque almeno avere un po' di timore un po' di limiti un po' niente secondo la tua religione tutto è lecito no assolutamente secondo la mia religione bisogna rispettare tutte quelle regole sociali che portano a sviluppare gli individui a sviluppare le persone a migliorare il modo di vivere a migliorare il modo di essere insieme al sistema sociale non appropriandosi di qualcuno comunque è molto vago l'insegnamento qua per non si capisce niente nel senso non eh vabbè ne potremmo parlare più specificamente non è chiaro come intendi rispettare il prossimo va bene beh quello Gesano è una roba generica quello è già una cosa generica però non è che non ci siano limiti almeno almeno su a chiesa che si dice comandamenti non rubare si ma è una porcaria eh guarda che i dieci comandamenti servono ai più debole non ai più forti cioè a Dio non gli si dice tu non devi rubare ricordatelo e questo è mostruoso perché vuol dire che il padrone può rubare e tu no ma dai come no hai mai visto hai mai visto la chiesa che non ha rubato la chiesa ha sempre rubato ma Dio ti prendi come una persona ti prendi non capisco niente pece di una persona un delinquente non per una persona e ora la chiesa va nel mistero come la chiesa perché la chiesa sta su col mistero no ma io non gioco il mistero io dico che è un delinquente per tutte le cose brutte che ha fatto per tutte le sue azioni Dio ecco ha mandato il diluvio universale ha sterminato l'umanità ha distrutto Sodoma e Gomorra ha mandato le pestilenze ne ha fatto di cotte e di crude peggio di così cosa deve fare ancora per essere considerato malvagio e i dieci comandamenti non servono perché le persone si comportano in maniera giusta servono perché il più debole non diventi qualcosa non riesca a superare la barriera che li impedisce di cogliere dall'albero la vita eterna ricordiamoci che il Dio dei cristiani ha impedito dall'essere umano di cogliere dall'albero la vita eterna diventando come Dio io purtroppo sono una persona ignorante in tutti i campi scusa ma tu non rubare non rubare a me hai conosciuto un Papa che non rubi cattolica a un momento veramente mi non sono mai in dare nei patronati non sono mai in dare in nessuna parte eh ma sai però credo in Dio che se qualcosa in altro non c'è non sai il Dio non c'è questo è il punto perché per me mandaria a lavorare tutti ma questo non è importante però il serve insomma qualcosa serviranno no sì e dopo sono ignorante anche nel campo tuo perché bisogna essere preparati leggere guarda come fai te sapere tante cose io leggo per necessità io leggo per necessità allora io ti faccio una proposta l'ultima sì perché non ti scontri per la radio che io ascolto sempre sempre le tue trasmissioni con un religioso senti hanno tentato guarda hanno tentato almeno una decina di volte di preparare degli incontri con dei teologi e i teologi sono scappati ha sempre rifiutato sono sempre scappati io non ho nessun problema ah mi ti procuro eh ah quando vuoi quando vuoi guarda io non ho nessun problema e perché non ti offe codò al vino ma non ho nessun problema con nessuno allora è un brinco mio brinchiotti guarda che a me va benissimo io non posso raccontare chiunque perché insomma non ho nessun problema anche perché ti dirò che stiamo organizzando una conferenza pubblica in centro a Treviso la società per azioni che c'è la chiesa io capisco benissimo io so però secondo il Vangelo insomma il Vangelo serve solo a dominare bene la persona ma il Vangelo viene usato per truffare le persone no no guarda c'è una grande confusione eh e in questa maniera qua si capisce ancora meno e se che uno che ha un po' di credo che va via anche qui meglio speriamo è già un buon passo è già un buon passo è già un buon passo meglio perdere qualcosa che pide va bene proviamo a sentire un'altra telefonata sì certo comunque comunque per fare un confronto con qualcuno quando quando vogliono perché con me è facile fare i confronto ma guarda noi non siamo violenti quei più deboli no violenti noi siamo duri duri con chi mette in ginocchio le persone non sono all'altezza vorrei capire che non è qualcosa non ti preoccupare verrai che capirai più di quanto pensi saluti sì no il discorso della libertà va bene va bene richiameranno se mi ricordiamo il supermonte telefono che è 049 700 700 e chi vuole andare in diretta la trasmissione avrà la trasmissione andrà in diretta ecco ciao Gian Paolo ciao 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 francesco francesco